Poi a un certo punto, sì sì, grazie, molto gentile. No, mi suggeriscono, dalla regia Colle e Passo, certo, però poi c'è quei momenti in cui no, perché noi in realtà stiamo in giro da quasi quattro mesi e quindi siamo una sera in posto, una sera in un'altra e sul palco ci si perde un po' e i nomi si sommano, si accavavano. E viva Colle e Passo allora, grazie per avermi avuto con voi, grazie a tutti. E' un'altra cosa, devo dire che l'estate ancora è presente, per fortuna, in alcune zone abbiamo trovato, come dire, già un pre-autunno, invece stasera l'estate ancora è con noi, per fortuna. E che dire, insomma, in questo bellissimo viaggio, no, in questo bellissimo percorso emozionale, ogni sera ci si trova davanti al pubblico diverso, ma in realtà poi la fortuna è che la voglia di condivisione sia per la stessa, per meno è la voglia di emozionarsi, di portare via qualcosa dai concerti, dai spettacoli, insomma, qualcosa che possa aiutarci, no, a dare dei buoni ricordi, perché poi sono piccoli, sono questi piccoli spazi che poi ci fanno, da una grande illusione, e noi ci fanno sperare che, insomma, la vita non sia così strana come a volte sempre, e che a volte ci vogliono, non ce la fanno, sembra un po' diversa da quello che riferimento in te, che io, quando vedo appunto, quando sono sul pubblico e quando vedo tanta gente così che voglia di emozionarsi, mi rincuoro un pochino, mi sembra, insomma, che le cose non siano così malvagie, come noi vediamo spesso in fine. Quindi grazie a tutti voi, buona serata a tutti noi. Grazie, finito.